Presidente, intanto un punto che alimenta la classifica e questo sicuramente è molto importante. Eh sì, sicuramente sì, perché poi quest'anno grandi ambizioni non abbiamo. Andiamo a rifare il nostro campionato in tutta tranquillità, perché era nei nostri programmi, dopo due campionati fatti a livelli abbastanza alti, siamo un pochino ridimensionati, anche perché è venuto a mancare altre cose che purtroppo è così. Però se guardiamo la classifica, sia la gara di Rassina è un MC Valdichiana che gioca in maniera ordinata, tranquilla, che sa il fatto suo. Sì, sì, è vero, è vero. Abbiamo sicuramente individuato anche in un buono e ottimo allenatore, i ragazzi lo seguono e di conseguenza i risultati poi vengono. Certo, poi c'è Salvatori che può fare la differenza in classissimo momento. Quando gli capitano le punizioni nella sua posizione, insomma, è un po' cecchino. E del resto è un MC Valdichiana che può dire la sua, no? Può essere proprio questo. Sì, noi ci proviamo senz'altro, ecco, di fuori di tutte le cose, e noi il nostro obiettivo è ritornare a fare un buon campionato, come le ripeto, siamo due anni che si sono fatti abbastanza a livello alto, e ora di conseguenza, però, ecco, non pregiudica che noi si possa anche... Ora vediamo un po' anche il mercato di novembre, perché siamo abbastanza pochi. L'appetito viene mangiando. L'appetito viene mangiando, siamo non tanti, e di conseguenza qualcosa vedremo di fare. Grazie a tutti. Prego. Grazie a tutti.